non mi aspettavo di arrivare in finale ma ora che sono in finale devo dire che mi aspetto di arrivare in finale se dovessi inquadrarne uno in particolare fosse il momento in cui mi hanno detto che ero passato dal last call ai live in tutto questo poco tempo tutto così compresso in realtà si fa un percorso che normalmente durerebbe forse anni ogni step ogni live il risultato di una provocazione che io mica ci siamo fatti vicendevolmente se penso a ciò che mica mi ha insegnato è di non dare per finito un processo creativo per me il brano che ha rappresentato di più la mia presenza ex factor e partecipo penso sia all'apice è la sintesi perfetta della mia esperienza ex factor è stato come la performance nella performance questa finale me immagino un po' come la sfilata di otto e mezzo dove noi esibiremo il meglio di quello che è stato con il massimo di ciò che abbiamo imparato la finale la sto immaginando più che come una ultima battaglia come la sfilata finale